Buon pomeriggio a tutti, benvenuti al quarto appuntamento di Incampo 2021, il progetto ideato da BASF in collaborazione con Edizioni L'Informatore Agrario che quest'anno ha avuto come obiettivo quello di portarvi in sette diverse realtà cerealicole italiane per affrontare diverse tematiche riguardanti la cerealicoltura del nostro paese, guardare a quella che è la situazione fitosanitaria e soprattutto cercare di capire cos'è successo nelle prove condotte in queste sette diverse realtà per quanto riguarda l'attività del nuovo prodotto di BASF Reviker. È un prodotto che è ultimo nato della ricerca BASF e che in questo pomeriggio vedremo in prove sia su orzo che su frumento. Oggi ci troviamo presso l'Università di Perugia, nell'azienda sperimentale di Papiano. Siamo in compagnia del professor Marcello Guiducci, buongiorno professore. Buongiorno a voi. Professore Lorenzo Colvarelli, buongiorno professore. E con Stefano Tarlazzi che ci ha già accompagnato in diverse tappe di questo percorso. Buongiorno Stefano. Buongiorno. Benissimo, cercheremo appunto di capire un po' quella che è l'attività sperimentale di questa importante realtà del centro Italia per poi entrare un po' più nel dettaglio di quelle che sono le attività sperimentali condotte. Io vorrei innanzitutto coinvolgere il professor Guiducci per cercare un po' di raccontare che cosa fa l'Università di Perugia appunto come attività di sperimentazione e in particolar modo in questa azienda sperimentale. Grazie, grazie. Buonasera a tutti di nuovo. Dunque, qui siamo al centro di un campo sperimentale di circa 20 ettari in cui ormai dal 1960 è operativo, in cui vengono svolte le attività di ricerca del Dipartimento di Scienze Agrarie, Ambientali e Alimentari dell'Università di Perugia. All'interno di questo campo sperimentale conduciamo ricerche a moltissimi argomenti. Andiamo da ricerche su sistemi culturali, in particolare abbiamo prove di lungo periodo in cui mettiamo a confronto sistemi di produzione agricola biologici, convenzionali in un'ottica di intensificazione sostenibile, che è una delle parole chiave più importanti adesso e per il futuro. Abbiamo sperimentazioni sui cereali autunno-vernini, sulle colture primaverile e estive di questa zona, girasole, mais, con prove di concimazione azotata, di ottimizzazione delle tecniche di lavorazione. Abbiamo sperimentazioni su orticole, in particolare pomodoro, melone e altre colture orticole, con per esempio cavoli broccoli, cavoli e quant'altro, quindi tipiche di questa zona. La sperimentazione viene condotta sia nell'ambito di progetti finanziati da varienti, sia in collaborazione con moltissime realtà sperimentali, ditte sementiere. Qui abbiamo una produzione, prove sperimentali di confronto varietale con varie ditte sementiere, produzione di semente, oltre alle attività importanti che svolgiamo in collaborazione con il professor Covarelli riguardo agli aspetti fitopatologici e alla difesa delle colture cerealicole primaverili e estivi, che fanno parte di questo collegamento. Mi piace, professore, questa parola di trovare delle strategie sostenibili. Questo è molto importante e anche queste collaborazioni con i diversi attori della filiera. L'approccio è un approccio su due grandi filoni. I sistemi culturali, quindi un approccio di tipo biologico, conoscenza ecologica, di come funziona la complessità notevole dei sistemi produttivi agricoli. E poi l'aspetto tecnologico, soprattutto con la messa a punto di strategie di difesa, per esempio, oppure le attività di agricoltura di precisione, soprattutto nella gestione delle erbe infestanti e dell'azoto. Qui siamo in una zona vulnerabile ai nitrati, per cui questa attenzione all'ambiente è una delle linee guida principali delle nostre attività di ricerca, che conduciamo con la collaborazione di tecnici. Qui ci sono operativi otto tecnici specializzati sull'attività di ricerca e siamo un gruppo di agronomi, che collaboriamo però con i patologi vegetali, con i genetisti agrari. Quindi questo è un centro di riferimento per le attività sperimentali di pieno campo, sulle linee che vi ho appena descritto. Professore, parliamo di condizioni climatiche di questo inizio 2021. Oggi, in questo momento, siamo costretti a registrare, cioè a essere in diretta dal centro aziendale, perché c'è appena stato un temporale. Però, quali sono state le condizioni climatiche che poi ci permettono anche di fare delle considerazioni, poi anche col professor Covarelli? Allora, facendo riferimento ai cereali autunno-vernini, abbiamo avuto un andamento stagionale molto contrastato. Nel senso che i primi tre mesi, quindi il periodo novembre, dicembre e gennaio, abbiamo avuto una piovosità incredibilmente alta. Abbiamo oltre il doppio delle precipitazioni rispetto alla media stagionale di questa zona, quindi con grossi problemi di ristagni edici. E in primavera abbiamo avuto una siccità piuttosto spiccata. Questi ultimi tre mesi sono stati caratterizzati da una piovosità molto modesta, associata però a, tanto per non torcersi nulla, associata a frequenti gelate. Non ultima, una gelata dell'otto di aprile, dopo un periodo piuttosto caldo, una gelata piuttosto intensa, abbiamo raggiunto quasi meno 6 gradi centigradi, con evidentemente effetti di un certo rilievo anche sui cereali autunno-vernini, oltre sulle colture allora presenti, quindi più sensibili. Comunque dal punto di vista strettamente fitopatologico vorrei sottolineare che l'andamento è stato caratterizzato da scarsità e precipitazioni, umidità non particolarmente elevata, quindi bagnatura fogliare non molto prolungata e frequente, e temperature basse, soprattutto temperature minime. Grazie professore. Passerei la parola al professor Lorenzo Covarelli. Questa è l'unica tappa in campo, ne abbiamo 7, dove parliamo anche di orzo. Volevo capire innanzitutto perché è importante la cultura dell'orzo in questo areale, un po' per inquadrare anche le motivazioni che ci hanno portato a scegliere proprio questa sede. Sì, buonasera a tutti di nuovo, ci occupiamo di orzo perché è una cultura che sta aumentando, quindi l'importanza di questa cultura sta aumentando in questo territorio, specialmente l'orzo è destinato alla industria maltaria, quindi c'è molto interesse da parte dell'industria, sia della industria, diciamo quella un pochino più grande, più strutturata, che da parte dei micro birrifici. E abbiamo qui anche all'Università di Perugia un importante centro, che è il centro di ricerca di eccellenza sulla birra, e quindi questo, diciamo che ha portato un grande interesse ultimamente verso questa cultura. È una cultura che tuttavia può venire attaccata, può essere attaccata da diversi agenti patogeni, per cui quello che noi facciamo in questi campi sperimentali è mettere a punto delle strategie di difesa, sempre nell'ambito di una difesa integrata, per riallacciarci a quello che diceva il professor Guilucci, in ottica di agricoltura sostenibile, e utilizzare diverse strategie di difesa che ci permettono di limitare la presenza di queste malattie. Mi riferisco principalmente a delle prove che facciamo sia sulla gestione dei residui culturali, sia sull'utilizzo dei prodotti chimici, come prodotti che si utilizzano in concia, oppure prodotti che vengono utilizzati come trattamenti fogliari, e verso diverse malattie, che poi dopo possiamo anche considerare, illustrare. Oppure anche la scelta varietale, che è una strategia molto importante, in quanto esistono delle differenze per quanto riguarda la suscettibilità delle diverse varietà di orzo alle diverse malattie che sono presenti in questa zona, e anche all'utilizzo di diverse concimazioni azotate o diverse densità di semina. Quindi abbiamo tutte queste prove che riguardano tecnica culturale, utilizzo di prodotti chimici, e anche di prodotti di origine naturale per il contenimento delle malattie. Allora entriamo un po' più in dettaglio di quelle che sono le malattie, soprattutto di questa zona, per quanto riguarda l'orzo. Sì, diciamo che in questa zona, ormai sono alcuni anni che riscontriamo la frequente presenza di un fungopatogeno molto importante dell'orzo, che è Pirenofora teres, nella sua forma teres, cioè la forma che causa la cosiddetta maculatura reticolare, cioè quella malattia che si nota sulle foglie è come delle striature, una reticolatura di colore nero, quindi è una necrosi di forma reticolare con delle strisciate sulle foglie di orzo. E questa è una malattia molto importante, che è una malattia anche trasmissibile per seme, per cui è molto importante l'utilizzo tra le varie strategie di difesa che ricordavo prima, l'utilizzo di un seme sano possibilmente. e insieme a questa malattia abbiamo anche un'altra malattia che è presente in diverse annate, non è sempre presente, però quando è presente può essere devastante, che è la ramularia. Ramularia collocigni è un agente patogeno che ormai è segnalato da quasi più di un secolo e che negli ultimi anni sta creando dei danni, specialmente nei paesi del nord Europa, ma che anche nei nostri ambienti inizia a presentarsi con una certa frequenza. Per cui non essendoci dei principi attivi specifici per questo agente patogeno abbiamo impostato una prova sperimentale di efficacia, di diversi meccanismi di azione, quindi fungicidi dotati di diversi meccanismi di azione per verificare la loro efficacia nei confronti di questa malattia. Quindi parlo di triazoli o di SDHI oppure anche di strobilurine usati singolarmente oppure in combinazione a due o a tre per verificare l'efficacia su questi agenti patogeni, quindi sia su ramularia che su pirenofora. È molto interessante, prima di andare in onda mi raccontava anche l'importanza delle attività di laboratorio che fate proprio per cercare di trovare le migliori soluzioni per quanto riguarda la difesa. Può spiegare quelle che sono le attività sia dal laboratorio al campo ma anche dal campo al laboratorio. Certo, sì. Diciamo che quello che si fa qui in campo è un'attività che riguarda la messa a punto di queste strategie di difesa e poi vengono fatti dei campionamenti. Il materiale viene portato in laboratorio e spesso si sottopone a delle analisi per quantificare i funghi presenti all'interno dei tessuti vegetali e questo per avere un dato un po' più preciso rispetto a quello che può essere una semplice osservazione visiva del sintomo. Quindi portiamo i campioni in campo e tramite la tecnica della real-time PCR riusciamo a quantificare la presenza del DNA dei diversi agenti patogeni quindi in maniera molto specifica per i diversi agenti patogeni. Inoltre facciamo in laboratorio anche analisi di micotossine per cui si porta ad esempio la granella di frumento, di orzo in laboratorio questa viene macinata viene sottoposta ad analisi di micotossine all'opposto a volte invece è dal campo che parte la nostra sperimentazione il nostro lavoro perché si testano alcuni prodotti su alcuni funghi e su alcune interazioni pianta patogeno che in laboratorio ci danno dei risultati promettenti e poi i migliori vengono poi trasferiti in campo per una sperimentazione poi in pieno campo dove le condizioni come ben sappiamo sono molto diverse da quelle artificiali del laboratorio perché dipende tutto dalle condizioni ambientali. Certo parliamo della stagione 2021 da un punto di vista fitopatologico quali sono le malattie che oggi sono presenti su orzo ma anche su frumento visto che comunque l'attività sperimentale è importante anche per il frumento. Sì su orzo come dicevo prima sicuramente pirenofora teres forma teres è stato l'agente patogeno più presente specialmente su alcune varietà che sono molto suscettibili a questo patogeno specialmente varietà di orzo primaverili che sono abbastanza suscettibili e poi c'è una discreta presenza di rincosporium un altro patogeno fogliare e si inizia a vedere anche qualche attacco di fusarium fusariosi della spiga dell'orzo è una malattia non molto conosciuta non quanto la fusariosi della spiga del frumento in quanto ha dei sintomi anche differenti rispetto a quelli del frumento che si presentano con degli imbrunimenti quindi la spighetta dell'orzo diventa di colore marrone bruno e questo può comportare anche dei problemi successivamente come contenuto di micotossine che poi vanno anche ad in qualche modo interferire col processo di maltazione e di produzione della birra quindi questi sono aspetti molto importanti che in alcune annate possono essere molto pericolosi e per quanto riguarda invece il frumento che cosa si può vedere in campo in questo momento per il frumento come abbiamo visto prima che le condizioni ambientali non sono state molto favorevoli in quanto ha piovuto poco durante la stagione primaverile ci sono state temperature minime specialmente molto basse quindi questo ha un po' frenato lo sviluppo di agenti patogeni e abbiamo visto proprio in questi giorni un attacco abbastanza consistente di ruggine gialla su una varietà particolarmente suscettibile e quindi un po' di septoriosi che però è rimasta bassa non è salita e quindi il danno sarà limitato e un agente patogeno di cui si parla molto che è microdochium microdochium nivale è un fungo che assomiglia un po' fusarium è un agente di fusariosi della spiga ma che può attaccare anche le foglie quindi a volte si formano queste necrosi fogliari che vengono confuse con la septoriosi ma in realtà è un danno provocato da microdochium anche perché mancano quei puntini neri che sono i picnidi della septoria e facendo degli isolamenti in laboratorio abbiamo visto che si isola microdochium grazie professor Covarelli adesso vorrei coinvolgere Stefano Tarlazzi perché visto che qui avete diverse attività sperimentali con l'Università di Perugia con il nuovo prodotto Reviker partiamo innanzitutto dalle caratteristiche di Reviker il protagonista di queste prove sia su orzo che su frumento duro e tenero come diceva giustamente Gian Antonio è Reviker il nostro nuovo prodotto un prodotto che è un po' figlio dell'innovazione di Basf un prodotto che contiene un innovativo triazolo Revisol e da non dimenticare l'F500 la nostra stabilurina molto efficace e conosciuta anche per i suoi aspetti fisiologici cos'è che contraddistingue l'innovazione di questo prodotto cioè di Revisol innanzitutto la sua molecola le sue caratteristiche chimico-fisiche che ne conferiscono un'elevata efficacia sia di tipo preventivo in particolar modo e curativo sia anche non da sottovalutare come è stato scoperto questo principio attivo che ci ha consentito di avere un prodotto con anche un profilo ecotossicologico molto favorevole Reviker entra diciamo chiaramente in una linea cereali già molto robusta con Comet Preaxor a difesa della foglia e Comet Propac e Caramba Metconazzolo a difesa della spiga fondamentalmente dal problema della fusariosi per cui chiaramente ci troviamo di fronte a un prodotto di tipo innovativo che ha anche senza dilungarmi troppo ma concettualmente ha anche un'efficacia elevata anche in caso in cui ci siano delle problematiche di resistenza situazione che non è dell'area italiana chiaramente ma che è del nord Europa questo poi è legato anche dicevo appunto alle sue caratteristiche chimiche partiamo dalle caratteristiche di Reviker per quanto riguarda la difesa dell'orzo visto che abbiamo parlato molto di orzo qual è il suo spettro d'azione allora il spettro d'azione che ha Reviker nei confronti dell'orzo sulla cultura dell'orzo sono come Pireno Fratellis per cui maculatura reticolare è il mito sporiosi e ramularia per cui va un'efficacia elevata nei confronti di questa malattia spesso si ricercano motivazioni molto particolari o difficili o molto diciamo astruse ma quello che differenzia l'efficacia di questo prodotto è la banalmente la complementarietà dei principi attivi che lo compongono F500 molto attivo sulla maculatura reticolare particolarmente attivo nei confronti di questa patologia Revisol particolarmente attivo nei confronti dell'armularia l'unione di queste due efficace diciamolo così consentimi il termine ci dà un prodotto particolarmente attivo nei confronti di queste importantissime malattie allo stesso tempo abbiamo visto e qui utilizzo dati che provengono ovviamente dal nord Europa infatti la cultura dell'orzo è chiaramente coltivata in particolar modo nei paesi del nord Europa abbiamo visto che il prodotto è attivo anche contro ruggini o idio ma questo lo sappiamo anche un po' dal frumento anche se diciamo i generi sono diversi di queste patologie e senza dubbio una cosa molto interessante qui mi sono assegnato questo dato che mi proviene dai colleghi di casa madre per esempio per avvalorare quello che diceva prima il professor Covarelli è stato fatto un'analisi su 4000 prove condotte da BASF dal 2000 al 2020 per cui in 20 anni su orzo si è visto che la maculatura reticolare è una patologia presente continuamente presente tutti gli anni ed è stabile la malattia più presente ma si è vista una recrudescenza della ramularia soprattutto negli ultimi 5-6 anni per cui avere un prodotto di questa efficacia è sicuramente importante soprattutto per come diceva il professor Covarelli prima la cultura dell'orzo è sempre stata vista un po' come una cultura povera concedetemi il termine invece negli ultimi anni soprattutto in questo reale l'importanza di questa cultura legata all'industria maltare per cui all'industria della birra sicuramente dà un'arma in più agli agricoltori per proteggere questa cultura che sta secondo me secondo BASF aumentando di importanza ci puoi descrivere il protocollo sperimentale che è stato fatto in questa prova certo il protocollo sperimentale è un protocollo di chiamiamolo strategia tra concianti e protezione della foglia la protezione solitamente su Ordo si fa un trattamento unico tra 39 a BCH a protezione della foglia e in questo caso abbiamo combinato Reviker con i nostri concianti che sono Rubin Plus e Sistiva quello che chiaramente paragonate a uno standard di riferimento a una strategia di riferimento strategia di riferimento esterna per cui i nostri competitor è una strategia diciamo interna con Priaxor per cui si è andato a valutare l'interazione che c'era tra che c'è stata fra concianti e difesa della foglia di conseguenza quello che è stato visto un po' io mi sono segnato qui alcuni dati che io ho visto la prova anche una decina di giorni fa e attualmente c'è un attacco prima sembrava un attacco più disformico adesso proprio l'attacco è molto uniforme soprattutto di pirenophora teres e quello che si può apprezzare è che la combinazione conciante sistiva Reviker ha senza dubbio performato in modo ottimale al pari degli standard a cui l'abbiamo paragonato controllando in modo ottimale questa malattia sempre diciamo tenendo in considerazione il fatto che abbiamo utilizzato una varietà sensibile in una condizione particolarmente stressante per i prodotti questo sicuramente è andato molto importante anche qui sicuramente l'efficacia di questo prodotto dimostra sicuramente oltre un'efficacia diretta nei confronti delle patologie anche con quegli effetti fisiologici che l'F500 non dimentichiamo dà anche in particolar modo sull'orzo che si vedono insomma in questa attività orzo ci è spiegato dal il protocollo sperimentale anche quelli che sono i risultati che ci sono fino adesso frumento ne abbiamo parlato nelle tappe scorse anche qui c'è una prova a frumento in questo caso il protocollo che è stato adottato bene anche qui chiaramente l'attività su frumento è molto importante questa è un'attività faccio una piccola premessa che sono già tre anni che conduciamo sì tre anni con l'università di Perugia un'attività chiaramente molto importante perché ovviamente il frumento è molto importante anche per questa per la penura del Tevere insomma per questa zona qui una prova che è stata si articola su due varietà una di frumento duro e di un frumento tenero una prova che prevederà ha previsto anche l'inoculo di fusariosi è stato fatto circa una settimana scorsa per cui ci attendiamo anche speriamo dei buoni risultati insomma della presenza della malattia si spera grazie appunto all'inoculo il protocollo è un protocollo molto semplice c'è un testimone che è non conciato non trattato e non è inoculato uno non inoculato per valutare la presenza naturale del patogeno più due strategie BASF che prevedono l'impiego di Revy Care a foglia bandiera seguito da Comet Pro Pack a protezione della spiga e diciamo uno standard di riferimento interno uno standard di riferimento interno a BASF che prevede l'impiego di Priaxor a difesa della foglia bandiera e di Comet Pro Pack sempre a difesa della spiga paragonati ai due migliori strategie che noi riteniamo sul mercato di nostri concorrenti questo è un po' il protocollo la situazione attuale beh diciamo nulla che non ci aspettavamo cioè Revy Care ha performato ottimamente la difesa nostra ha performato ottimamente nei confronti della ruggine gialla al pari degli standard di riferimento questo chiaramente si può dire senza problemi un'ottima efficacia è molto diciamo interessante il fatto che la ruggine anche della settimana scorsa a questa settimana è aumentata e si sta espandendo per cui questo darà modo all'università di fare un rilievo secondo me sicuramente significativo per quanto riguarda l'efficacia nei confronti di questo portogeno per cui diciamo Revy Care non fa altro che confermare quello che è dell'efficacia che ha nei confronti delle ruggine in particolare gialla mi interessava approfondire abbiamo sempre parlato di efficacia per quanto riguarda Revy Care il discorso della selettività ci puoi spiegare da che cosa dipende la selettività di Revy Care allora la protezione della foglia bandiera sappiamo che a livello agronomico è il momento migliore per posizionare la difesa cioè la protezione di questa foglia fa sì che ci siano produzioni più diciamo qualitativamente quantitativamente superiori chiaramente però la prassi che è quella reale che spesso avviene nella normalità di tutti i giorni è quella di applicare i prodotti fungicidi in miscela agli erbicidi qui non abbiamo questa situazione l'abbiamo vista e la vedremo anche nelle altre nei prossimi incontri che faremo chiaramente si applicano i prodotti fungicidi in momenti in cui si rischia di avere dei ritorni di freddo dei problemi appunto anche le miscele con certi fungicidi miscela con erbicidi possono dare dei problemi anche diciamo evidenti di fitotossicità e come diceva giustamente il professore riducci poco fa un'annata come questa che come l'anno scorso ha visto degli sbalzi termici importanti temperatura spesso abbondantemente al di sotto dello zero questa situazione meteorologica non fa altro che aumentare questi effetti di diciamo fitotossicità e grazie diciamo tornando alla tua domanda il fatto che Reviker possieda diciamo una caratteristica legata alla molecola che sia quella che assorbita in modo molto rapido grazie alla sua innovativa formulazione tende a formare dei serbatoi di principi attivo all'interno del mesofilo fogliare e venga rilasciato in modo lento per cui questo fa sì che non ci siano problemi di sovraccumuli di principi attivo all'interno delle punte che causano quelle caratteristiche fogliari diciamo necrosi fogliari caratteristiche di certi triazoli di vecchia generazione abbiamo visto in modo posso dire fortunato sia l'anno scorso che quest'anno grazie appunto a queste condizioni meteorologiche limite Chiarevi che era sempre performato in un modo ottimale nelle attività che abbiamo fatto abbiamo visto che il prodotto è sempre stato selettivo da solo e in miscela con i principali erbicini impiegati grazie Stefano grazie avevo una curiosità per il professor Covarelli le attività che fate poi c'è anche tutta l'attività di verifica da un punto di vista qualitativo della produzione raccolta nelle diverse sperimentazioni sia di difesa che di fertilizzazione è una curiosità che mi è rimasta più che altro vengono fatte delle analisi che riguardano il peso ettolitrico il peso dei mille semi il contenuto di proteine e come vi dicevo prima anche in alcuni casi il contenuto di micotossine quindi sono queste principalmente le caratteristiche qualitative che vengono determinate qualitative importanti per quanto riguarda i diversi cereali bene siamo arrivati alle conclusioni anche di questo appuntamento innanzitutto volevo ringraziare il professor Guiducci e il professor Covarelli per averci ospitato presso questa azienda sperimentale veramente bella complimenti e speriamo di avere ancora occasione di venire qui ringrazio Stefano Tarlazzi vi do appuntamento la settimana prossima saremo in diretta da Venezia dalla zona di Caorle per cui ancora con il progetto in campo e potete riguardare se foste interessati questo appuntamento sul canale YouTube dell'informatore agrario dove trovate anche le dirette che sono state già realizzate nelle scorse settimane e vi auguro a tutti una buona serata buonasera buonasera Grazie a tutti